Un luogo in cui gli anziani in difficoltà potranno trovare accoglienza e assistenza è la comunità alloggio per anziani Antonio Montinaro, dedicata alla memoria del caposcorta di Falcone morto nella strage di Capaci. La struttura appena inaugurata si trova in via del Quarnaro a Palermo e nasce dalla lunga esperienza di volontariato nel territorio dell'Associazione di Solidarietà Antonio Montinaro. La nuova comunità alloggio può ospitare sino a 10 anziani, che non pagano una retta prestabilita ma versano quanto è nelle loro possibilità. Il resto delle spese viene affrontato tramite il contributo di chiunque voglia adoperarsi per aiutare i più bisognosi. Se dopo 21 anni le persone fanno questo per Antonio, vuol dire che poi Antonio era una bella persona e le persone lo vogliono ricordare in questo modo. Aprire una casa per anziani, questa è la memoria più bella per Antonio. Io penso che teniamo un poca memoria corta, veramente, ma non solo i siciliani, sono proprio gli italiani. Ed è proprio questo che noi dobbiamo fare, noi familiari, portare avanti la memoria, anche perché senza il nostro passato io penso che non siamo niente. La gente di scorta che compie sino in fondo il proprio dovere. Ma Antonio Montinaro era soprattutto un ragazzo generoso, animato da una grande sensibilità per chi vive ai margini della società. Antonio lo ricordano proprio perché era quel ragazzo che arrestava senza soldi in tasca, però diceva non fa niente, perché tanto noi insomma un piatto di pastine ce lo possiamo mangiare, ma forse loro no. Antonio era fatto così, Antonio era bello proprio perché era così. Certo, proprio perché è memoria e qualcuno dice vabbè a futura memoria forse, lasciamo stare. Quest'anno proprio perché il giardino non è stato fatto, perché nessuno si è voluto impegnare per questo. Il 23 maggio lo facciamo a Mozzecane, in un comune vicino Verona, perché è gente che ci crede, ci crede fortemente. Quindi faremo il 23 maggio lì, anche perché, come dico sempre, il 23 maggio appartiene a tutta l'Italia. A chi ha conosciuto Antonio Montinaro resta il ricordo di un uomo straordinario, la cui esistenza, seppur breve, è stata monito ad una dote non comune, la capacità di aprire davvero il cuore agli altri. 24 anni fa mi trovavo in Viano Tabartolo, conoscevo Antonio, ci salutavamo a livello ciao, ciao, come vai? Mentre aspettava il giudice è passata una signora, una giovane romme, diciamo, con un bambino di 4-5 mesi in braccio, piangeva, che io non gli ho fatto caso. Mentre Antonio l'ha presa per la spalla ha detto, dimmi perché piangi, dice perché c'è il bambino con febbre alta, dice non so come fare, dice va bene, ha scritto in un bigliettino, ha preso un bigliettino, la penna, ha scritto il nome di un medico, dice vai subito all'ospedale dei bambini, a nome mio che ti visitano il bambino. Le ha dato 2000 lire ai tempi per prendere l'autobus, il che ho detto Antonio, ma chi te lo fa fare, tu sei un poliziotto, dico con gli zingari, ancora io non ero entrata in questo mondo. E lui mi ha detto, dice Ina, quello che loro danno, noi non possiamo, non lo diamo noi, sono loro quello che danno a noi.